Avvertenze importanti. Specifichiamo che questo video non rappresenta una consulenza di investimento né una raccomandazione di investimento, ma esclusivamente una pubblicità. Tutte le informazioni sugli strumenti finanziari trattati, compresi i rischi, sono descritte nella documentazione legale rintracciabile gratuitamente nel sito dell'emittente certificati.fontable.com. Raccomandiamo di leggere attentamente tale documentazione prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento. In questo video si fa riferimento a performance passate o future degli strumenti finanziari. Ovviamente le performance passate, così come le previsioni, non sono un indicatore affidabile delle future. Per qualsiasi ulteriore informazione legale, consultare il sito certificati.fontable.com. Oggi vado di intraday sul DAX, un'operazione che ritengo un po' rischiosa, ma va da valutare solo in intraday, perché ieri il DAX ci ha fatto vedere un po' di debolezza, un po' più forte rispetto a quello che abbiamo visto in America. Stamattina, però, gli indici tendono un recupero e il DAX quindi a 17.040 lo voglio vendere. Stiamo parlando di quasi il prezzo attuale, quindi fra poco potrebbe entrarmi. e perché? Perché valuto che questo potrebbe essere semplicemente l'inizio di una zona laterale in cui ieri hanno fatto il primo passo. Quindi vendo a 17.040, lo stop 17.130, quindi 90 punti. Andiamo quasi sui massimi di ieri, e il take a 16.900. Parlo naturalmente di futures di marzo. Praticamente la valuta che il minimo di ieri possa essere ripreso, e quindi ecco mi sono messo poco poco sopra il minimo di ieri. Vediamo questo movimento che è difficile perché siamo in pieno trend rialzista, come sapete, ma ieri, questa giornata di ieri, mi ha dato un po' sintomo di debolezza, il che oggi ci sono anche le scadenze delle opzioni di molti futures, quindi la liquidità del mercato viene resettata, e quindi ciò che abbiamo visto finora potrebbe essere un attimo messo in pausa, quindi questo trend forte, adesso non ha più, secondo me, tutti quei volumi che avevo prima, e si inizia diciamo da zero, ecco, vediamo un attimo. Ecco, siamo appena entrati, 17.040. Vediamo che succede, ecco. Vediamo che succede, ecco.